ho conosciuto il pagante finalmente c'è stato un confronto accesissimo però purtroppo non abbiamo litigato quindi bellissimo ci siamo divertite molto molto non abbiamo litigato ma ne abbiamo raccontato e questo va destra traccia dopo traccia abbiamo registrato l'album story molto esauriente sì faninaro 2.0 loro sono 2.0 io sono paola gallo e vi aspetto anzi ascoltate questo album story perché mi raccomando possiamo dirla al pagante perché ci sta dentro come come possiamo che ci sta perché ci siamo paganti gaza 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 ecco gaza mi piace ciao ti ho vista ieri in un centro sociale